E' la risposta della Coldiretti alla crisi economica. Nasce una rete di servizi per le cooperative in campagna ed in Italia per promuovere la crescita sui territori, un rinnovato tessuto imprenditoriale e una nuova occupazione. UE Coop ha riunito oggi a Napoli la prima assemblea che raccoglie già 400 soci in ognuno dei 14 settori dell'albo. Sono stati presentati inoltre i servizi gratuiti per i soci che riguardano l'analisi aziendale, societaria, finanziaria, economica e di mercato, la consulenza legale, il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, l'innovazione nei servizi informatici, di marketing e management. Noi abbiamo un rapporto consolidato col mondo cooperativo, con Coldiretti, apprezziamo molto quello che fanno e che investono in quel settore, che si fia lavoro, qualità della vita, solidarietà, preservazione dei territori e noi lavoriamo molto su questi processi di liberazione dal territorio, bene che si consolidano sempre di più le iniziative nella nostra città.